Comunicato di notifica di garanzia per il pilota coinvolto nell'incidente delle frecce tricolori. Oggi lunedì 18 settembre i carabinieri hanno notificato un avviso di garanzia al capitano Oscar Del Do, il pilota dell'aereo delle frecce tricolori coinvolto nell'incidente avvenuto sabato scorso a Torino che ha causato la tragica morte di una bambina di 5 anni e il ferimento dei suoi familiari. Questa notifica è stata effettuata su disposizione della procura di Ivrea che sta conducendo un'indagine approfondita sull'accaduto riguardante il velivolo MB339, noto come Pony 4 appartenente alla pattuglia acrobatica italiana. Secondo quanto riferito dalle autorità giudiziarie l'avviso di garanzia rappresenta un passaggio puramente formale necessario per consentire esami tecnici irripetibili sulle prove relative al velivolo e all'auto coinvolta nell'incidente. In effetti tale notifica è essenziale per permettere al militare dell'aeronautica di partecipare a tali indagini tecniche, possibilmente assistito da un consulente di parte, previa a consultazione con il suo avvocato. Inoltre è stato riferito che potrebbe essere preso in considerazione l'incarico di un legale dell'avvocatura dello Stato per la difesa del militare coinvolto.